ciao a tutti ragazzi sono asiat opinion ed ecco a noi qua davanti day one 2013 la nostra scatola magica e scatola nera vediamo un po più da vicino eccola qui e perdonatemi la luce ma il flash del telefono visto che sto girando con l'iphone non è un gioco né niente credo che voi sappiate benissimo cos'è visto che c'è anche scritto xbox line quindi adesso procediamo all'apertura si tocca fare così se no voi non vedete niente procediamo all'apertura del nostro portamento ok così dopo tantissime tecniche di apertura scatole esperienza diplomi solo per togliere da una dominatrice dalla scatola ecco lui la scatola interna ovviamente sentite che non è in in plastica ma in alluminio che cacchio è faccio vedere che va così così forse non si vede meglio e adesso accettiamo di qui alla scatola interna ed eccola piestrina sempre di riconoscimento visto che xbox live non scherzavo piestrina sempre in alluminio con scritto grazie per essere parte del day one istruzioni c'è avvertenza dove vari davanti così tutto questo ragazzi a ben 70 euro quindi mi raccomando spendete bene compratelo e niente ciao a tutti vi ricordo alla pagina facebook hazard opinion iscrivetevi al canale e xbox live outfit ciao 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 ciao